E' un caccioolo, un caccioolo, un caccioolo che sciauro fa a signorina scomogliola in solo cavolo, caccioolo capambena. Non so se... Salve a tutti, oggi recensirò un aroma marca Aiso prodotto da Zap Juice che si intitola Ucciuolo. Vedete questa parola anglosass? Questa parola anglosass vuol dire Ucciuolo. Ora, no, c'è nel senso. Io quando ho cominciato a fumare la sigaretta elettronica, infatti ancora dico fumare la sigaretta elettronica perché non ci trovo niente di male, perché quando ho cominciato a fumare la sigaretta elettronica per me la sigaretta elettronica era l'alternativa, non un'alternativa, l'alternativa, l'unica alternativa alle sigarette. Quindi com'è che io cominciai a fumare la sigaretta elettronica? L'ho detto in qualche altro video ma comunque lo ricordo perché lessi un articolo, non mi ricordo dove, che diceva che avevano, erano in commercio, avevano inventato dei liquidi al sapore di sigaretta, al sapore di malboro, al sapore di merit, al sapore di questo, al sapore di quello. Quindi quel giorno io andai in negozio e chiesi i liquidi al sapore di malboro, al sapore di questo, di quello. Poi mi resi conto che niente può eguagliare il sapore della sigaretta, fortunatamente, che lo svapo è mille volte meglio. Però io pensavo che lo svapo fosse quello, un metodo per smettere di fumare. Invece nel corso del tempo ho visto l'acqua lunga, cioccolato, panna, limone, stracciatella, nocciola, prosciutto crudo, legno di quercia, non so, manco, va bene, manco, papaya, frutto della passione, frutto dell'amore, figlia rusa, figli scuffati, tutto, tutto. Alla fine sono arrivato a un compromesso, diciamo così. Io svapo tabacchi. Anche tabacchi aromatizzati non è una cosa dell'altro mondo o una novità. Anche molti tabacchi da pipa sono aromatizzati. Anche molti sigari sono aromatizzati. Anche le sigarette, ci sono le sigarette al mentolo. Qua no, ma all'America so che ci sono le sigarette ad altri gusti, cose così. Sì, ma sempre tabacco, eh. E tendo a preferire i tabacchi nello svapo, i tabacchi che abbiano... Sì, va bene, l'aromatizzazione sì, ma fino a un certo punto. Cioè il tabacco si deve sentire, se no sti cazzi. Poi, vabbè, apprezzo alcuni cremosi, pochi, pochi, pochi. Ma diciamo che il mio mast è quello tabacco. Tabacco organico, possibilmente. Eh... tabaccoso sintetico, quando ho bisogno di una botta di nicotina estrema. E al posto di fumare la menta, che ti serve a pulire la bocca, perché sennò ti viene la lingua dello svapatore, che poi non capisci più i sapori di qua e di là. Al posto di fumare la menta mi fumo i liquidi ghiacciati, che hanno lo stesso effetto, eh. Praticamente. Voi fatevi un giorno di liquidi ghiacciati, fatevi un giorno di ciuciolo ghiacciato. Il giorno dopo fumerete il vostro tabacco organico e dite, ah, ok. L'avevo dimenticato che era... che aveva questo gusto. Quindi comunque tutto ha una determinata funzione. Per me. E secondo me tutto dovrebbe tornare ad avere quella funzione basta, ma basta proprio. Comunque. Però... un ciuciolo... ma... ma figlio mio, un ciuciolo... ma se può un ciuciolo ghiacciato. Che poi non è che dice, sai, non sape bello, sape brutto, è sgradevole o cose. No. Un ciuciolo ghiacciato. Un ciuciolo ghiacciato. Sa di ciuciolo, capito? Cioè... allora, tu hai presente quando ti fai... va bene, specie il periodo estivico, va bene? Te fai l'ansalata di ciuciolo, l'ansalata fresca di ciuciolo. Va bene? Quelle... che poi è una cosa antica, ma ora la spacciano per cose vegane, vegetariane. Allora vegano fa l'ansalata di ciuciolo che contiene tanta acqua e non disturba gli animali, non disturba la natura. Testa di minchia, ansalata di ciuciolo. Se la facevano a gentuzza che non si potevano permettere altre cose. Non è che c'era vegano, vegetariano e le bombe che hai in testa. E no, comunque, ansalata di ciuciolo. Ansalata di ciuciolo, quello, fresco, stessa cosa. Quello. Aspetta che devo drippare. E quindi basta. E non è che... che cazzo volete che vi dica uno youtuber, uno youtuber, appunto, un recensore quando tratta di questi liquidi. Vi posso dire la fedeltà del liquido a quello che c'è scritto, no? Quindi se c'ho mango e fragola, devo sentire mango e fragola, non devo sentire una caramella alla fragola, è una specie di acidulo del mango. Per me. Se l'intento è sentire un ciuciolo ghiacciato, devo sentire un ciuciolo ghiacciato. Ed è quello che si sente. Ciuciolo ghiacciato. Io ci vedo molto più senso in liquidi come questo, anche se sta cosa dopo il ciuciolo mi fa ridere, sinceramente, che in un... è liquid, che ne so, torta della nonna, cioccolato e panna. Però ognuno prova la sua soddisfazione con... è liquid diversi, per cui... che problema c'è. Solo che mi fa ridere sta cosa. La sigaretta elettronica da metodo per non fumare è diventata, e sta diventando sempre di più, lasciatevelo dire, una minchiata, una minchiata di quelle enormi. Bello, è bello che ci sia tanta varietà. Però sarebbe bello non perdere l'obiettivo, che è non fumare. Quindi... questo. Accattatevi un ciuciolo fresco, ghiacciato, ai su, ghiè. Capiste? Ciao. 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 Grazie.